Al via da oggi il cantiere per il restyling della centralissima via Regina Elena Pescara, l'assessore comunale Nattarelli con i progettisti e l'impresa ha effettuato un sopralluogo. Ecco come diventerà la via adiacente a Piazza Salotto, 120 giorni di tempo per ultimari lavori. Il cantiere è partito stamattina, ora stanno sistemando tutta la logistica e quindi sarà operativo già da domani. Quanti giorni dureranno i lavori all'incirca? Allora l'impresa ha chiesto 120 giorni, noi speriamo di farlo anche in tempi un po' più brevi, dipende dall'andamento dei lavori che noi tra l'altro stiamo seguendo proprio, siamo col fiato sul collo dell'impresa, quindi speriamo di accelerare un po'. Abbiamo visto il rendering, questo marmo bianco che caratterizzerà la zona, ma le chiedo gli alberi che fine faranno? Allora gli alberi senz'altro staranno meglio perché toglieremo questi basamenti di cemento, verranno fatte delle aiuole che sono tre volte più grandi di quelle, ora non ci sono nemmeno le aiuole, insomma verranno fatte quindi delle aree per le quali l'albero potrà respirare meglio, quindi gli alberi dovrebbero star meglio e soprattutto non sacrificheremo nessun albero. Voi ci tenete a dire che starete attenti anche all'abbattimento delle barriere architettoniche? Certo, questo è un altro aspetto che abbiamo considerato, visto che si rifà la strada toglieremo tutte le barriere architettoniche che ci sono ora. La strada verrà chiusa, ci saranno dei periodi di chiusura? Ci sarà anche qualche momento di chiusura, in linea di massima la strada resterà percorribile, nel momento in cui faremo i lavori ovviamente toglieremo i parcheggi. Anche altri cantieri sono in corso a Pescara? Certo, oggi praticamente inauguriamo tre cantieri, perché c'è il cantiere in via Caduta del Forte, che è un cantiere che durerà circa dieci giorni, perché là dovrà essere rifatto tutto il pavimento stradale, anche con modalità diverse da come è fatto qui, perché là ci passano gli auto, e poi stiamo rifacendo la segnaletica via Firenze, e poi abbiamo anche altri cantieri che partiranno da qui a quindici giorni. Grazie. Grazie.